Buonasera dal telegiornale RAE del Piemonte. Come avete sentito dai titoli, partono domani gli esami sanitari sui cittadini dei comuni intorno all'inceneritore del gerbido a Torino. Due milioni di euro per un'indagine epidemiologica su un campione di 400 persone per tranquillizzare su eventuali rischi. L'impianto è stato spento temporaneamente e gli esami verranno ripetuti tra un anno. Vediamo. Due milioni di euro spalmati su tre anni, 800 mila nel 2013, il prezzo dell'indagine epidemiologica a tutela della salute dei cittadini, promossa dalla provincia di Torino e dalla società di gestione dell'inceneritore del gerbido alle porte del capoluogo, la TRM, che sosterrà tre quarti dei costi. Partendo dal presupposto che bisogna dare il massimo di trasparenza, il massimo di sicurezza e il massimo, diciamo così, anche di coinvolgimento dei cittadini. Gli esami per stabilire parametri cardiovascolari, respiratori e la presenza di metalli pesanti e idrocarburi partiranno da domani su un campione di circa 400 persone. Metà abitanti a Torino, metà residenti nell'area esposta alle emissioni dell'impianto. I comuni di Beinasco, Rivalto, Orbassano, Gugliasco e Collegno, la responsabile del progetto. La prima volta in Italia e ci sono pochissimi esempi in Europa di un studio organizzato in questo modo, è sicuramente uno dei migliori che potevamo disegnare. Su un campione ristretto di 100 persone saranno poi controllati anche i livelli di PCB, composti organici tossici e di ossine, ad analizzarli l'Istituto Superiore di Sanità. Perentoria la posizione dell'istituzione provinciale nel caso di risultati oltre la norma. La provincia che ha autorizzato l'impianto nel momento in cui venisse arrivati i problemi è chiaro che si interrompe l'attività perché al primo posto c'è la salute dei cittadini. L'inceneritore dopo la partenza tecnica del 20 aprile è stato bloccato ieri l'altro, ripartirà a luglio salvo sorprese.